Nel cuore del Gran Sasso c'è il profumo del futuro, sono luoghi di eccellenza. Siamo convinti che prima o poi tireremo fuori un Nobel. Lo ha detto il Premier Matteo Renzi in Abruzzo per visitare dapprima i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e poi la Walter Tosto a Chietiscalo. Giunto in Abruzzo in elicottero, ad Assergi il Premier ha parlato davanti ad una platea di amministratori pubblici e ricercatori dopo aver visitato i Laboratori Sotterranei con il Ministro per l'Università Stefania Giannini. Ci sono 60 milioni di euro per la manutenzione e l'innovazione dei laboratori, ha annunciato il Premier rivolgendosi ai ricercatori dell'Istituto di Fisica Nucleare. Poi ha aggiunto, è giusto fare esperienza all'estero, non bisogna continuare ad aver paura del mondo senza frontiere, ma far sì che i nostri istituti siano all'avanguardia. La Fisica Italiana, ha aggiunto, è tra le più forti al mondo e abbiamo la grande responsabilità di continuare questa storia. Negli ultimi anni abbiamo visto venir meno dei fondi e questo è un errore, ed è il motivo per il quale per la prima volta non soltanto si è arrestata la caduta del finanziamento, l'INFN riceveva 230 milioni lo scorso anno e sempre meno, negli ultimi anni ha perduto almeno il 15% del finanziamento. Noi quest'anno abbiamo riniziato a restituire una parte dei soldi, da 230 siamo andati a 245, ancora non basta. Oggi siamo qui per annunciare un finanziamento straordinario di 60 milioni su un progetto che l'INFN nel corso dei prossimi settimane e mesi si metterà in atto e quindi i 60 milioni necessari a far sì che il gran sasso, meglio, che i lavoratori del gran sasso, poi c'è anche il tema della legge sul gran sasso Science Institute, ma diciamo i 60 milioni necessari perché si possa intervenire sulla manutenzione e sulla innovazione e sulla grande battaglia, la grande sfida per la materia oscura e non soltanto in quel settore ci sono e sono soldi che noi metteremo a disposizione fin dalle prossime settimane e mesi. Seconda tappa della visita del Premier a Chieti e alla Walter Tosto, un'importante realtà industriale che ha collaborato negli anni anche con i laboratori nazionali del gran sasso, sua latta anche realizzata su misura per l'esperimento borexino avviato negli anni 90. L'azienda teatina ha assunto 49 unità con il Jobs Act, ha detto l'amministratore delegato Luca Tosto, altre 10 assunzioni saranno fatte a breve, altre 40 entro la fine dell'anno, in parte stabilizzazioni e in parte nuove. Il Premier è arrivato in elicottero, l'azienda leader del Made in Italy che produce serbatoie e contenitori per prodotti petroliferi e componenti per reattori nucleari. Decine i sindaci presenti, i vertici delle forze dell'ordine, istituzioni varie. Se c'è qualcuno che crea posti di lavoro va ringraziato, ha detto Renzi. Quando siamo partiti con l'azione di governo, ha detto il Premier, la parola d'ordine era speriamo che non facciamo la fine della Grecia. Avevamo e abbiamo dei problemi da risolvere, nessuno nega che bisogna lavorare duro per risolverli. Finiti i primi due anni, ha detto il Premier, dico che per i prossimi due da qui alle elezioni voglio lavorare con la stessa intensità del primo giorno. Ma accanto a questo, ha detto ancora, ci deve essere anche la consapevolezza che siamo un grande paese e dobbiamo smetterla di piangerci addosso. E infine, non potevano inchiudere il discorso sulla attrattiva turistica del bel paese. Giro il mondo, ha detto Renzi e tutti mi ricordano le belle vacanze che hanno trascorso in Italia. Persino Obama mi ha confessato che appena finisce il mandato si prenderà del tempo per venire in Italia. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.